L'esperienza africana mi ha insegnato che è Africa dovunque ci sia bisogno di aiuto, di accarezzare la persona che viene costretta a vivere in una condizione di subordinazione in merito a mancanza di legalità, in merito a calpestare i diritti dell'uomo. Ecco perché stasera la nostra associazione internazionale Olus e ti porti in Africa qui a Roma presso la città del Vaticano ha voluto consegnare al nostro carissimo professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento internazionale della legalità, un premio speciale. Un premio speciale che vada a suggellare e soprattutto a dire grazie a questa persona per quanto negli anni ha saputo dare e continua quotidianamente a esprimere nei sensi della lotta verso la illegalità in tutte le sue forme. Quindi lotta anche alle violenze, lotta ai sopprusi in un modo meraviglioso che è quello di insegnare ai giovani il percorso della legalità che è l'unico modo per renderli uomini liberi. Ecco perché abbiamo voluto gratificare con un premio il presidente di questa associazione perché nella sua Africa quotidiana potesse sapere che ognuno di noi è accanto per ringraziarlo ma anche per dargli il nostro aiuto qualora ne avesse bisogno e ce lo chiedesse. E' per me un onore ritirare qui in questa splendida realtà della Vaticano un premio così importante in prima edizione. Io ringrazio il dottore Vincenzo Mallamansci per quanto ha voluto fare e io sono convinto di una cosa che pensando a questo premio in prima edizione ha pensato non solo a Nicolò Mannino ma ha pensato anche ai tanti tanti bambini giovani da tutta Italia, anche dal Cairo, dall'America, dalla Costa d'Avorio, prossimamente in Columbia, dove noi abbiamo piantato un faro di speranza per dire a tutti quanti che la bellezza della legalità può brillare solo nel cuore degli onesti perché dobbiamo fare di tutto per sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. Quindi grazie per questo premio che dedico a tutti gli onesti.